Facciamo una prova, 1,2,3 via Stai registrando? Si si va Chiudo Vai oh Stava finendo la sigaretta, capito perché? Non è capito, no però non ti prego, non ti fassi tirare, non ti tirare, mi fai sta male Che fai tu? Ti parla di tirare? Tutta, non aspirare Stiamo a tirare A tirare Di lato? Stai molto nervoso, come va, facciate le rette e consumate Di lato? Di lato? Tira Aspetta, scusa Che non volevo fare Vabbè Aspettando? Non metto questo qua, vedi? Aspettando 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 No, non siamo registrati Sempre quando vuoi Non è un po' E può fare, guarda Con due dei retti può fare un double top Però è una cosa che non è possibile E noi lavoriamo Cioè Io lo faccio Allora Allora Tremi a buscarmi Allora Come un'insta Allora No, no Il mio reattore non protagonista B angolo della sigaretta Si scomandiamo una una sigaretta e montiamo uno che ha qualcosa che si ingrono si te lo vanno Per ogni giorno ora in realtà Ho il lunedì baixat Poglina Ciao 7 volte un gomito o una volta? ho fatto mai e usciuto che lo aveva? e sta la metto trasformata facciamo un'altra tenete in bocca di nuovo sbagliate io? vabbè comunque conti una stecca ma baccagno che cosa si è già fumato? questa volta potrebbe essere 100 e io però questa mano no hai un mano no addosso diritti sei sicuro di volerlo fare? ehi fa come si veramente si andasse a fornare fa come si è messa a fornare per il palpacchio sconfisso no perfetto sei sicuro di volerlo fare? eh ma poi il resto delle battute io mi ricordo e lui ti dice ti dice ma non è la metta la seconda ognuno di noi sorseggia dal suo amaro calice io lo farò con il muso pausa lento straziato dolorante straziato dolorante somma è andata è andata e tu sai a me fatti molto male fatti male fatti male fatti male fatti male fatti male ah beh 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 grazie